signori e signori in diretta dalla periferia di mugnano radio crc targato italia è lieta di presentarvi il comico più suburbano dell'etere campano rosario verde benvenuti benvenuti questa è radio crc io sono rosario verde sono orgoglioso di essere di nuovo questa emittente con questa striscetta che è un quarto d'ora che va in onda più volte al giorno ed io direi di passare in mantenente subito alla prima rubrica è il momento dell'attualità e sì parliamo di attualità il tema più attuale di oggi è questa pandemia questo virus messicano i ricercatori sono sono sconvolti perché dice che questo virus messicano si può combattere solo fra le due e le tre del pomeriggio dice che è l'unico orario dove il virus va a fare la siesta ma poi la cosa che più ha sconvolto i ricercatori che guardando il virus messicano di questa febbre messicana questo virus dal microscopio dice che hanno visto che suona le maracas e canta guantalamela però non c'è mai c'è sempre c'è sempre una notizia rassicurante infatti dice che il questa pandemia questa febbre messicana si può curare con una semplice aspirina a patto che sia a forma di sombrero ora come si dice una guantalamela al giorno toglie il medico di torno